Cioè ragazzi, come v'è? Ho visto che qualcuno di voi ha creato un gioco su di noi. Beh, che dire, proviamolo dai, andiamo. Eccoci qui ragazzi. Premetto subito una roba. Il gioco in questione è ancora in fase di sviluppo, però il creatore, che ringrazio in anticipo, me l'ha voluto far provare. Ma, guardate, era meglio di no. Infatti vengo a scoprire, dopo aver ricevuto il gioco, che è disponibile solo per PS2. Come chiunque altro, l'ho mandato a cagare, tenendo per me la copia. La copia. L'unica. Beh, il gioco inizia con Babbo, ma se no con chi. E per essere in mezzo a un bosco, ma non so quale. Io non ero presente lì. Ok. Ah, lo posso controllare. Raccogli. Meno merdo. Ah, io l'avrei bevuto. Scusa. Minchia un fucile. Si sveglia vicino a un fucile, a un'arma. Ma io voglio vedere che cosa combina. C'era pure una felpa. Minchia che boss. Eh, non si può superare, che cazzo. Vabbè. Ah, salta. Ok. Ma non si può correre. No, cammina e basta. Ma dai. Stranzato. Oh. Ma da solo. No, che succede? Dai. Non ci volevo questa. Ma cos'è? Ma cos'è? Un orso o un cane? Che cazzo? Oh, Minx. Minchia. Madonna, cos'è? Ah, adesso sta andando da solo. Cos'era quello? Eh, cos'era quello? Lo chiede a me. Boh. Meglio muoversi. Eh, muoviamoci. Ok, adesso lo sto controllando io. Ma non è neanche un gioco. Lo ascio lì, tanto fa tutto lui. Ma che cazzo l'ha fatto? Ma è un coglione. Ma questa è una giungla, non un bosco. Porta, trovi il controller. Eh, c'è Rat. Guarda, che novità. Beh, io con Rat non ci parlo. Fuggi, fuggi. No, è già... Che cazzo l'ha visto? Premi cerchio. Che cazzo l'ha visto? E muore Babu. Che novità. Ragazzi, guarda, io spero che non provate sto gioco. Fa veramente schifo, anche se ci siamo noi. E... Ma a un prossimo video. Ciao, ragazzi.